Allora parliamo dei meme, i meme di questa settimana che sono questi, a me fanno riderissimo, guardate, allora questo qua sostanzialmente dice puoi anche vaccinarti senza necessariamente postarlo. Quest'altro invece fa vedere l'utilizzo tipico delle stampanti, cioè quanto tempo passa una stampante ha la parte blu a stampare e la parte arancione a fare scrata cringe, scrata crunch, non stampo, non stampo, perché è molto comune se conosciamo le stampanti cosa fanno. Un'altra che mi è piaciuta è questa qua, c'è Sophia Loren e Jane Mansfield che sostanzialmente sono in una famosa foto di Hollywood del 57, lei che è Wall Street che ha le sue stocks, che guarda con invidia le cripto perché sono un po' più, come dire,